Buongiorno Buongiorno siamo i primi non c'è nessuno Siamo tornati ragazzi al Fishing Stadium di Agosta attività sportiva confederata il paesino di Agosta quello è Agosta cielo sereno variabile poco nuvoloso non è vero speriamo alessandro fa la piccettina fa la piccettina Mario stiamo aspettando forza l'hai fatta tutta? si ora non ci piace eccoci in azione pronti siamo pronti aspettiamo le otto aspettiamo 7.35 aspettiamo un colpo di pistola buongiorno vedete una faccina non è a mosche e la Tremarella quella è da tre pezzi ah quella è da tre pezzi hai solamente flessibile quella ma vedete tutte flessibili ma visitiamo un po' con questa c'è un piatto luce con questa cammetta buongiorno questo qua è Padre Morello è buono chi è lei? io mi chiamano Mario ti chiamano? adesso puoi chiamare da solo Mario del Terlenza ah si è lunga 2 metri questa qua i pesci sono alto 1.60 1.60 1.50 2.10 metti a confronto con questa quella da spinning quelle sono 2.10 si che sei quasi un fatto è più lunga è più lunga 2.30 2.40 2.50 2.50 ci sta scritto no ci sta scritto no ci abbiamo visto io e zio Angelo ci sta scritto dalla grammatura la grammatura 160 grammi dovrebbe essere 2.60 2.80 eh vabbè ah è giusto non ci sta a fare tanto aria mia eh? non ci sta a pescare uno no no non si può come lo sa a rientrare perché? perché ci ha eredito quello delle gomme che c'entra? che c'entra? che c'entra che ci ha eredito le gomme? che anzi che sta a rientrare vabbè ragazzi ci vediamo dopo no Carlo manca a dormire sono nato nel cappotto ce l'ho si io ci sono noi vediamo mi moglie lo faccio fino a stasera alle 6 eh? eh 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 ragazzi oggi è nera eh giornata nera mi ha presa una mio fratello e tre Alessandro buongiorno come va? mi ha preso mi ha preso tristezza mi ha preso mi ha preso la guardia come va? tu? 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 come va Marco? tu? non 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 mi ha preso un po' di vantaggio a sti ragazzi ha anche a mosca bella questo oh qualcuno guardiamo mi sono andato a chieppare mi sono andato a chieppare guarda dai li diamo no vabbè dai mi sono andato a chieppare guarda mi ha fai mi sono andato no vabbè mi sono andato a filo vabbè vabbè cosa è verosimile ragazzi mamma bella 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 non ci credo guarda dove si è agganciata mamma mia bella grazie guarda dove si è agganciata guarda dove si è agganciata mamma mia Marco mi fa leggermente schifo sulla mano guarda dove si è agganciata alla ucca ma no perché dove si è agganciata oh guarda noia o se stanno a svilare tutte adesso Mario questa è la seconda pizzo un pizzo ho messo il fermone in un gros filo è una camera normale è usciuto è quella di prima andiamo al caldo è bello è bello è bello bello è bello non so se ce l'ha da andare mamma mia bella vista C'è un pizzo? Ma dove è la pizzo? Orco, tu hai una pizzo? Ha ciappato un pizzo Bello! Mario! E' più grossa della mia Ma che c'è del tau? No, è più grossa Un pizzo, un pizzo Non sei rovinata questa posca Mamma, vuoi vedersi? Ma mamma, stasera facciamo le trotte vicino Oh questo che è? Oh questo che è? Ho fatto la canna metrile Ragazzi non ci dobbiamo Guardate la giù Oh! Ah Ah questo che è Mario? Ah ah Oh Questa qua Oh Il micciato ecco Ah 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 Oh Ho visto E' un tappo guarda come si è messa, non si muore più, si è fermata si è impuntata guarda dove sta camminando, sta camminando sotto la riva gli piace proprio il muro non c'è un braccio mamma mia che te che te a te stai a mangiare Mario mamma mia che te non c'è a mollo, ti sei impicciato da lì non c'è a mese non c'è a me hai visto Don Giù? no ti lascia a me un po' più che te è un animale E' una trota? No no è un animale. Eccola! Ah no è l'ombra tua. Levate Samuel che se schizza ti metti pure e fate sotto. Devo andare là? No io lo leggo. Ecco la porco d'ombrazione. E' bello, non me la pinno. No no, non me la pinno. Sotto la ripa. Eh lo so l'ho visto. Sotto la ripa la socchiappata. Meno male mi sono scherbiato tutti. Sotto la pancia lo pinno. Porco tua ambessione. Appena viste i retini. Anzi. Così rossa. Vabbè è contenta regà. Io sto continuando con il Santorosino. Ehi, non mi sono scherzi. Ehi, non mi sono scherzi. Quanto c***o è subito? Ehi, non mi sono scherzi. Ehi, hai un po' di erano. Ehi, che faccio? Mi sono in compagno, eh? Eh, vanno a dire. Vanno a forza. Vediamo che sta alla canna. A presto. stai a una da qua e hai cance stai a una ca stai a un sacco hai ca non ce la fai vai dentro vai dai vai dai dai non, non puoi sanno è una macchina questa è tutta la pancia vai questa e basta ma adesso vai allunga lo vedi che ci spazi non è sempre tempo se è arrivata a te non l'avevo fatta io stavo così allunga te cassa non mi chiedo è stanca Ma hai dato una forza paura? Eh, lo so. Tu vedete, retino e sciabba. Non sta assurire, non sta assurire, non sta assurire. Non sta assurire, non sta assurire. Non sta assurire, non sta assurire. Non sta assurire, non sta assurire, non sta assurire. Oh, bravo, bravo. Stiamo dando una propiscia. Papà, perché sta andata in là? Che va in là? Che va in là? Danno la paura, si è andata pure in là. Magari ci sono andata a due, a due, a due. Un po' più. Un po' più. Oh, qua sotto, vai più. Mamma mia! Levate Samuoi, levati. Vai, ti ricordi, guardi. Fammuore, quasi ti metti in mezzo. Eh tu***a! Mi stacca il capoccio sotto! Eh! Spera, retino e scappa. Vai, devi fare veloce. Lo giuro, se non è decido e ci lo mocciono come io No, mocciono io No, mocciono pure io Ma non è già... Oh, senza i biastini Ma non è già... Ma non è già... Oh, potrei che si Faccio il momento, fa il bip, fa il matì Porco giuda, oh Guardate qua, le stanno Oh, è da via O che c'è un botto, ho? O che c'è un botto? C'è un botto, c'è un botto Ilù è? C****** C****** C'è un botto che c'è un botto? C****** Io non ti arrivo ai. la recupera la tirarla fuori che si lo vuoi? che sta? la faccia la vorrei di dare la roba se ne sovraessero 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 è rimasto all'olta la faccia però la faccia non puoi andare in quanto la faccia non puoi andare in quanto se li vedevi bruciare per andare non puoi andare a l'argomento fuori vabbè aspetta a tirare la mia sta ammicciata la mia sta ammicciata è più pulita eccola eccola pure west